Al Climate Fest insieme a due ospiti davvero importanti e speciali che hanno appena finito un incontro, direi molto partecipato, sullo spreco alimentare. Quindi siamo insieme a Elena Tessaro dell'Isia di Faenza, ho portato la mia tesi di laurea. E a Andrea Fanzago, responsabile dell'area povertà alimentare di Caritas Ambrosiana. Benissimo, quindi vi chiederei di farci un sunto di quello di cui avete parlato. Facciamo i cavalieri, partirei da Elena, va bene? Allora, io ho portato la mia tesi di laurea che verte nel recupero di materiali di scarto alimentari all'interno dell'ambito familiare, quindi casalingo, per fornire un sostentamento in più, una protezione in più per il settore vegetale, quindi i semi vegetali per le piante. Attraverso la manipolazione dei materiali e la creazione di un prodotto, sono riuscita ad accelerare la germinazione che è la fase iniziale di crescita delle piante e fornire sostentamento durante tutto il percorso di crescita. Perché si diceva, giusto Andrea, che in realtà è nelle case che avviene il maggior spreco alimentare. Sì, diciamo che nel mondo l'ONU ha indicato come il primo attore di generatore di spreco è la famiglia, il 40%, poi arriva la produzione, la distribuzione e la ristorazione, questo in scala, quindi dobbiamo proprio educarci a consumare quello di cui effettivamente abbiamo bisogno e a non sprecare il cibo, perché Papa Francesco dice che buttare il cibo è come rubare alla messa dei poveri. Praticamente, concretamente, torno da te Andrea fra pochissimo perché qui vedo i barattolini, spiegaci bene e anche come potremmo fare anche noi, insomma, quello che hai sperimentato tu. Allora, i due barattoli... Prendili pure in mano. Sono i due elementi base, diciamo, il guscio di d'uovo tritato e... Che teniamo chiuso perché mi ha dato che ha un odore incredibile, ecco. Esatto. E la polvere di caffè, diciamo, sia dalla moca che dalle capsule di caffè, eventualmente. Questi due elementi, da elementi di scarto alimentare casalinghi, diventano elementi essenziali per il nutrimento delle piante, perché possiedono tutte le sostanze nutritive per il sostentamento del seme durante la fase di germinazione e durante la crescita. Da questi due elementi ho realizzato questo. Questo si chiama novo, è un embrione, all'interno viene posizionato il seme, esternamente vi è la membrana di caffè, quindi, diciamo, che dà l'alimentazione, sostentamento, e esternamente la membrana di guscio d'uovo, che dà protezione durante tutta la crescita del seme. E questo quale valore aggiunto ha? È un recupero di materiali che trovi all'interno dell'ambito casalingo, quindi, dopo l'utilizzo delle uova, vengono manipolate perché vengono rese polvere, e allo stesso modo anche il caffè. Tutti questi due elementi forniscono il sostentamento al 100%, senza bisogno di fertilizzanti artificiali, senza bisogno di nessun fertilizzante antiparassitario, insetticida. Tutto quello che danno questi due elementi è necessario e sufficiente, diciamo. Grazie mille, complimenti. Andrea, che cosa possiamo fare noi qui a Milano, insomma, per, innanzitutto partendo dalle nostre case, concretamente, quali passi possiamo fare fin da oggi, senza farla paternale, ovviamente, nel modo molto concreto, per aiutarci. Quindi non per aiutare il nostro pianeta, ma per aiutare la casa che ci ospita. Certo. Beh, innanzitutto, appunto, educarci ad un consumo equo, nel senso che quando si fa la spesa bisogna stare attenti, sia alle dati di scadenza dei prodotti, sia alle quantità, e quando si cucina, anche, bisogna cucinare le dosi che servono per quel pasto. Spesso cuciniamo molto di più, e tutto quello che cuciniamo molto di più, qualcosa va in frigo, qualcosa va nella spazzatura. E questo è veramente uno spreco. Abbiamo visto i dati che abbiamo comunicato, lo spreco alimentare nel mondo è veramente uno scandalo. Riusciremmo a recuperare quelle eccedenze, a sfamare quella parte del mondo che oggi non ha la garanzia di almeno un pasto al giorno, perché purtroppo esiste anche questa realtà. L'impegno di Caritas Ambrosiana in questo ambito è proprio contro lo spreco alimentare e per affermare il diritto al cibo. Quindi il compito di Caritas non è quello di recuperare le eccedenze, ma è quello di fornire gli alimenti a chi in questo momento si trova in difficoltà economica. E purtroppo stanno aumentando. Sono aumentate nel 2020, sono raddoppiate, hanno continuato nel 2021 e adesso nell'economia di guerra stiamo assistendo ad un aumento costante delle famiglie che si trovano in difficoltà. Stanno arrivando le famiglie povere lavoratori, cioè quella famiglia che ha un monoreddito e che con l'aumento dei prezzi al consumo e delle bollette energetiche si trova in seria difficoltà. Hai anche qualche dato oppure sai se ci sarà qualche studio in merito specifico su Milano e città metropolitana? Allora, la rete di Caritas Ambrosiana che è composta dagli Empori della Solidarietà e dalle botteghe solidali oggi nel primo trimestre soddisfa quasi 5.000 famiglie. I dati del 2021 arrivavano a 5.600 famiglie. Siamo nel primo trimestre, stiamo parlando del primo trimestre, quindi vuol dire che anche sul 2022 si manterranno costanti questi numeri in aumento. E questo è preoccupante perché l'inflazione è al 6% e questa inflazione sta mettendo in ginocchio tante famiglie. E sono famiglie nuove, attenzione, che non erano mai venute alla Caritas a chiedere un aiuto. Grazie mille Andrea, grazie Elena e insomma teniamoci in contatto. Assolutamente.